Amici, ci troviamo in tempi bui, ma noi siamo l'unica speranza. Guardatevi intorno. Una compagnia di nobili guardiani, vecchi e nuovi. Ok, ascoltate. Siete un branco di disadattati, ma siete tutto ciò che abbiamo e dovremo accontentarci. Hanno attaccato la nostra terra. Io c'ero e ho affrontato l'orda inarrestabile. Arrivavano a fiotti e io li trivellavo. Non per tirarmela, ma sono stato grande. Nonostante il coraggioso sacrificio di molti, abbiamo perso tutto. La torre, la città, la nostra casa. Ci abbiamo rimesso tutto. Vostra roba, mia, ma soprattutto la mia roba. Ora conosciamo il nostro nemico. Si chiama... Gopri! Oh, Guido? Gonia? Non lo so, ma inizia con la G! Gau. So che riponete la vostra fiducia in me, ma non posso affrontarlo da solo. E dunque se non vi vedo là fuori, verrò a prendervi uno per uno. È ora di vendicare questa ingiustizia. Questo è il dovere di tutti i guardiani. Nella peggiore delle ipotesi, morirete. Ma chi lo sa? Magari non capiterà. Dunque vi chiedo, chi lotterà al mio fianco? Vai! Ragazzi. Wow. Sai davvero come ispirarli. Inoltre, ci sarà bottino a non finire! Eh già, è vero. Mi fa gola, eh? Sì! Prenote e accedi alla beta in anticipo.